Vuoi sapere tutto sulla storia greca, dalle civiltà minoica e micenea alla nascita dell'impero persiano e l'età ellenistica? La nostra scuola superiore per mediatori linguistici autorizzata dal MIUR offre ai suoi studenti la possibilità di seguire il corso di Storia della filosofia antica e di sostenere l'esame di profitto comodamente sulla piattaforma e-learning Icotea. Alla fine del corso otterrai 12 crediti formativi universitari. Per saperne di più vai su www.icotea.it, cerca Corsi singoli e clicca su Corsi di Storia della filosofia antica LANT02.